è arrivato è arrivato un bel 4 a 0 rotondo rotondo con rapid devienna una squadra modesta non giriamoci attorno e non giriamoci attorno però visto la situazione che vivevamo che viviamo il verbo portiamolo al presente il verbo è visto questa situazione qua è un 4 a 0 che ci fa stare ci fa respirare ci dà un po di ossigeno perché arriva tra campionato e coppa arriva la quarta vittoria di fila per cui se andiamo a sommare le varie partite precedenti ne esce fuori un filotto un filotto positivo stiamo tranquilli stiamo calmi perché la prova del 9 arriva domenica una squadra con un blasone con un con un con un'entità che stavo ne ho identità diversa per cui lì è la vera prova del 9 ma parliamo della partita di stasera sono contento e felice per il gol di ranocchia di andreuccio ragazzo che sappiamo le difficoltà che ha riscontrato all'inter però c'ha sempre poverino c'è sempre ha sempre rispettato la maglia se sembra allenato ha sempre avuto pallo parole al miele per l'inter per cui quando poi un ragazzo del genere viene premiato con un bel gol fa piacere a lui e fa piacere a noi di fossi penso che non possa aggiungere altro e poi zio tonino candreva che io io per quanto lo ami figlio mio questo qua poverino ci prova ci riprova ma non la butta dentro nemmeno a morire sta cosa mi visto visto poi il risultato ampio mi fa anche ridere stasera ma metti che ti serviva un gol figlio mio chissà quant'è smadonna smadonna per sto ragazzo qua perché è una cosa incredibile e ormai è entrato in un in un circuito un circolo vizioso che non da dove non se ne esce non riesce non c'è non c'è nulla da fare io ero abituato al candreva candreva di altri tempi quello che poi nei minuti finali ha preso e assaltato tre uomini ma sono giocate sporadiche però lasciamo stare lasciamo stare e poi mi soffermerei soprattutto su lui su quello che è il vero protagonista vero protagonista sul campo degli ultimi delle ultime settimane delle ultime prestazioni dell'inter cioè i van peric su se tu lui forse va fatto un discorso leggermente più approfondito questo finalmente finalmente un ragazzo che si vede che ha cambiato passo ha cambiato passe non so se la cosa mi faccia felice o mi faccia incazzare non lo so da un lato mi fa felice perché finalmente abbiamo un giocatore bravo bravo che ti può dar quel qualcosa in più però l'altro canto proprio perché un giocatore bravo in tutti sti mesi passati ma che ha fatto dov'era che problemi ha avuto non lo pagava no l'inter lo pagava lo stesso allora perché questa metamorfosi sono coincidenze che adesso il ragazzo sta giocando bene coincidenze fatalità sì ma adesso non diamo tutte le colpe ai carri magari perché poi arrivano i commenti eh non giocava bene perché i carri così no perisic perisic viene retribuito regolarmente dall'inter e perisic deve offrire il massimo all'inter l'impegno che 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 gli ho visto in queste nelle ultime due gare a perisic non glielo ho visto in due anni non glielo ho visto in due anni stasera nonostante il 2 il 3 a 0 lui era quello che voleva affrettare sempre il gioco perché voleva trovare il gol voleva voleva assolutamente il gol voleva la giocata voleva essere protagonista sbracciava si sbraitava con l'arbitro quando gli fischiavano falli a contro a favore cioè era era protagonista era protagonista uno come perisic però questo me l'aspetto sempre sempre non adesso che magari vuole mettersi in mostra per vicende che che sappiamo bene che sappiamo bene quindi questo non è il segnale di professionalità è tutto il contrario tutto il contrario queste cose queste cose al caro neschio fanno rabbia fanno rabbia e fanno male e poi c'è poco da dilungarsi ragazzi questa è stata la partita un altro giocatore che vogliamo menzionare l'autario l'autario ha fatto la sua partita si sbraccia si sbraita viene sempre a prendere palla cerca di fare sponde ragazzo c'è ed è presente andiamo andiamo facciamolo giocare facciamolo giocare tanto domenica i cardi non ci sarà di nuovo a proposito ma le avete visti sembrava una famiglia fester no la famiglia adams adams che c'è zio fester come cavolo sia famiglia adams bianchi in faccia boriosi non lo so tristi di una tristezza perché l'inter vince lo stesso l'inter va avanti va avanti lo stesso perché l'inter è più grande di tutto e di tutti l'inter viene prima dei giocatori è bene che lui e la sua moglie lo capiscano e lo accettino ebbene solo questo punto non mi dilungo perché non c'è altro da dire dai pensiamoci alla prossima gara continuiamo così amala sempre e comunque se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram